Ho visto il volto santo sotto il cambio della luce, no? Non solo un volto di tenerezza, ma di accoglienza. Ho visto un volto sorridente a me, quasi dicendo benvenuto, Miss Antonio, no? E' un volto che parla. E' vivo. E' vivo, sì. E' il messaggio, la parola, è in volto, no? Sì. Ah, sì, sì. Non to the world. Sì. Il padre Carmine mi ha mandato questo, no? Sì. E' anche un volto verso di me, no? Però non mi sentivo timore, timore davanti a un giudice o un volto che condanna, no? Un volto di verità. E la verità è l'amore. Sì. E l'amore vince, sempre la paura. E mi sentivo, no, questo pomeriggio, ma forse è questo, come si dice, il giuramento ultimo, no? Non è un giuramento pieno di paura, di timore, però davanti, davanti all'amore puro, no? Io non voglio nascondermi, non c'è ragione di nascondermi, no? C'è solo la ragione di aprire il mio cuore davanti a un volto aperto, aperto di amore, aperto di benvenuto, aperto di perdonare i miei sbagli, no? E' un'esperienza di liberazione per me, no? E per me questa è un'esperienza religiosa.